Tre importanti momenti musicali a Palermo, i concerti di Calcutta domani sera, Massimo Ranieri il 2 agosto e Antonello Venditti il 29, tre occasioni per dire di no alle dipendenze da droghe e alcol e fare prevenzione contro le malattie sessualmente trasmissibili come l'epatite A, la IDS, la sifilide, l'HIV, passando a stili di vita più corretti. E' il contenuto della campagna di sensibilizzazione prevista dal Piano Regionale della Prevenzione, che l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana insieme con l'ASPE di Palermo hanno diffuso. Una unità mobile perfettamente allestita all'interno per effettuare ogni sorta di screening e fornire consulenza psicologica sarà presente in prossimità del palco dove si terranno i tre concerti all'interno del camper, medici, psicologi, assistenti sociali, personale sanitario, inviteranno il pubblico che si recherà gli eventi musicali a fermarsi, entrare per qualche minuto e verificare il proprio stato di saluto o semplicemente distribuire qualche utilissima e concreta informazione su come la prevenzione possa significare in molti casi salvare la vita. Domani, in occasione del concerto di Calcutta, la prima tappa del camper è dedicata ai giovanissimi, ai giovani dai 14 ai 26 anni. A loro sarà distribuita una preziosa mini guida intitolata Goditi la vita, con i 10 punti fondamentali da osservare per non contrarre il virus dell'HIV o di altre infezioni che si trasmettono attraverso i rapporti sessuali. All'interno dell'opuscolo un profilattico, il numero verde sempre attivo 800 86 10 61, a cui ci si può rivolgere in caso di screening o sospetto di avere contratto infezioni. La campagna di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione proseguirà il 2 agosto al concerto di Massimo Ranieri con la promozione degli screening oncologici, le vaccinazioni contro le malattie infettive, la prevenzione delle malattie cronico-degenerative come cardiopatie, ictus, tumori, diabete e disturbi respiratori cronici che hanno alla base fattori di rischio modificabili con un corretto stile di vita. Ed è proprio sui corretti stili di vita che il camper dell'ASP si soffermerà in occasione del terzo concerto, quello di Antonello Venditti coinvolgendo il pubblico di tutte le età.